Si parte con le convenzioni per velocizzare le procedure che garantiscano i servizi essenziali, poi si vedrà. Trovato il bandolo della matassa tra i quattro comuni riuniti nel nuovo piano di zona S101, recenti incontri hanno portato agli accordi definitivi e passata la linea del sindaco di Nocera Superiore Cuofano può quindi cominciare il lavoro sinergico tra Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio e Rocca Piemonte per offrire i dovuti servizi alle comunità di riferimento. Il braccio di ferro tra i due enti più corposi, quelli nocerini, sembra ormai un lontano ricordo. Si deve procedere e fare in fretta. Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha voluto sottolineare che ci dovrà essere pari trattamento tra tutti gli enti, nessuna preferenza e sulle convenzioni o la nascita di un'azienda specializzata consortile dice qualunque forma va bene, l'importante è che sia di qualità, volta a dare le giuste risposte ai cittadini. Conosco fortunatamente bene e stimo i sindaci, sono legata da tutti i sindaci sia di Rocca che di Nocera Superiore che di Nocera Inferiore da un rapporto di amiciti. Sono persone splendide però le pari opportunità le dobbiamo avere tutti, non c'è nessuno che deve fare la parte del leone. Almeno noi non lo consentiremo a San Giorgio, questo è poco ma sicuro. Se no parliamo di pari opportunità ma poi le dobbiamo raggiungere queste pari opportunità. Sono avverso il rinnovo dei contratti con le convenzioni oppure bolle in pentola? Per adesso abbiamo rinnovato le convenzioni ma noi siamo aperti ad ogni forma di decisione purché ci sia. Ci sono esempi di buone aziende come ci sono esempi di cattivi aziende, ci sono esempi di buone convenzioni come ci sono esempi di pessime convenzioni. Qualunque sia la veste che vogliamo far indossare al piano di zona, qualsiasi sia l'abito che noi dobbiamo uscire per il piano di zona, deve essere un abito che calzi a pennello e che ripeto deve favorire tutti e quattro i comuni aderenti. Anche il sindaco di Rocca Piemonte, Carmine Pagano, alle sue prime uscite pubbliche dopo l'intervento chirurgico subito a seguito di un problema cardiaco, conferma che l'accordo c'è e che si dovrà pensare esclusivamente al bene delle persone che attendono con ansia l'implementazione dei servizi sociali. Ci siamo allineati o perlomeno si sono allineati a una delibera che era stata fatta dal nostro comune e dalla precedente amministrazione che in attesa di poter eventualmente fare poi un'azienda si rimane per il momento in convenzione tutti e quattro i comuni. Anche i nostri inferiori si è trovati d'accordo su questa possibilità per iniziare a fare qualcosa perché altrimenti nel sociale se non ci organizziamo in questo modo non possiamo mai partire, quindi bisogna fare anche, abbiamo bisogno di assistenti sociali, psicologi eccetera, però se non raggiungiamo un accordo e si è raggiunto in questo senso e quindi potremo cominciare a lavorare finalmente. Dalla regione Campania poi arrivano buone nuove, stanno per essere sbloccati i fondi per far ripartire al meglio le politiche sociali e le attività concrete per le persone del territorio. Ne ha parlato ai nostri microfoni il consigliere di Palazzo Santa Lucia, Tommaso Amabile, tra l'altro presidente della sesta commissione regionale politiche sociali, istruzione, cultura e ricerca scientifica. Il tema del welfare, delle politiche sociali nei cinque anni dell'amministrazione di centro-destra è stato cancellato dall'agenda politica dell'impegno istituzionale della regione Campania. Oggi è tornato prepotentemente all'attenzione ed è il fulcro di tutta una serie di iniziative che sono state messe in campo e che stanno già dando i loro frutti. Innanzitutto si è andato alla riorganizzazione dei piani di zona che devono coincidere con i distretti sanitari. Il Castel San Giorgio rientra in una di queste situazioni, viene da un piano di zona molto ampio, complesso, dove era difficile organizzarsi per dare risposte ai territori. Oggi si è invertita la tendenza, la regione ha messo in campo anche delle permialità perché i piani di zona si dotino delle aziende consortili, perché l'obiettivo è quello di andare alla stabilizzazione di un personale precario che non consente né di programmare né di dare risposte compiute agli utenti all'interno delle comunità. È un processo complesso, sicuramente la tendenza si è invertita, sono argomenti e sono tematiche fortemente attenzionate, anche la sesta commissione permanente che io presiedo sta dando numerose risposte su questo versante e noi siamo determinati e siamo convinti che alla fine di questo primo step di cinque anni di impegno in Regione Campania le politiche sociali, il welfare anche nella nostra regione sicuramente andrà a coprire un gap strutturale che lo teneva molto ma molto distante da altre regioni, soprattutto quello del centro-nordo.